Cristi è lieta di presentare al mercato una novità nell'ambito della visualizzazione ad alta risoluzione e in particolar modo in occasione di questo ISEE presentiamo in questa area il nostro nuovo prodotto Mirage 4K25. Questo prodotto è il primo prodotto al mondo a visualizzare immagini con risoluzione 4K con un refresh video di 120 fotogrammi per secondo. Questo permette di avere immagini con una definizione altissima e con una qualità riproduttiva che è attualmente la massima raggiungibile. In questa area Cristi presenta la nuova gamma di pannelli a cristalli liquidi che è stata implementata da due nuovi prodotti recentemente. Chiaramente questi prodotti sostengono tutte le applicazioni Cristi, in specifico sui pannelli LCD. In occasione di questa manifestazione presentiamo il nuovo 65 pollici che è disponibile anche nella versione touch. In questa area Cristi presenta in qualità di innovatore un nuovo prodotto Cristi Brio. Cristi Brio è un'architettura che permette di realizzare in modo semplice la infrastruttura necessaria per una sala a riunioni dove vi è la condivisione delle informazioni tra i vari relatori. Il sistema lavora completamente in wifi per cui è compatibile con personal computer, iPad e sistemi touch dove vi è la possibilità di condividere informazioni su un grande schermo. In questa area Cristi presenta la soluzione per le sali di controllo di processo, la nuova gamma di prodotti intero, cubi di retroproiezione con tecnologia DLP illuminata da LED con accesso frontale per la manutenzione. Cristi in questa area presenta la nuova linea di sistemi di amplificazione audio, Viva Audio, linea che è stata generata per soddisfare esigenze nel mondo del cinema ma che è applicabile anche all'interno di realizzazioni quali sali congressuali. In qualità di fornitore globale Cristi presenta una linea di diffusori acustici line array, degli amplificatori e processori audio.